E carissimi amici, carissimi amiche, salve a tutti, buongiorno, benvenuti sul canale. Oggi, per il caso di Liliana Resinovic, credo sia opportuno fare un chiarimento dopo tutte queste polemiche che si susseguono. La cosa che dà più fastidio è proprio questa credine, questa contrapposizione, che nasce dal fatto di non essere oggettivi, di non creare la giusta distanza empatica con i vari personaggi coinvolti. Specie chi fa croner, chi fa opinione, dovrebbe assumere un certo tipo di distacco emotivo, emozionale, perché altrimenti si fanno discorsi di pastigianeria, che in questo caso non hanno significato. Quindi, al di là della figura di Sebastiano, io credo che sia doveroso capire perché Serpin ha avuto bisogno di inventarsi tante cose e perché Sebastiano ha questo tipo di atteggiamento, di chiusura e spesso di negazione di tante cose. Quindi, dobbiamo fare un'operazione stamattina di chiarezza, ecco, su tutte queste polemiche che portano le contrapposizioni che hanno così fatto del male a queste inchieste, sono contrapposizioni, vedete, che si sono radicalizzate, tanto da far assumere a questa storia degli aspetti grotteschi, a volte ridicoli, perché c'è una testardaggine su alcuni particolari, che ovviamente sono senza senso. Persone, vedete che sui social, persone che non si conoscono fra di loro, che si accusano delle peggiori cose, che si fanno le peggiori offese, e tutti quanti che si vestono dei panni degli inquisitori, dei PM, dei procuratori. E più si alza questo fumo, più si alza questa nebbia, e più non si vede niente, e non si riesce a capire più nulla. Ci sono persone veramente con la bava alla bocca, arrabbiate, arrabbiate in una sorta di delirio, di cui si stenta a capire la genesi, ma si stenta a capire anche la direzione finale di tutto ciò. Ovviamente io tutto questo lo osservo, lo rifletto, e ho sempre predicato, diciamo, il buonsenso, la ragionevolezza, ma sono termini evidentemente sconosciuti alla gran parte. Qualcuno pensa, in base a quelle che sono le mie idee derivanti da un'onestente elettuale, che io difenda, addirittura difenda Sebastiano e accusi Serpì. E perché si dice questo? Perché la gente ha bisogno di contrapposizioni, non riesce a guardare con oggettività. Allora oggi vorrei provare a chiarire, una volta per tutte, alcuni concetti, almeno in relazione ai due personaggi che creano maggiormente queste contrapposizioni di Guelfi e Ghibellini e che a volte sembra di assistere a una santa crociata. Ecco, Sebastiano non è mai stato difeso da me. Non ho né interessi e né niente da difendere, né niente da spartire al di là di una conoscenza o meno. Io sono fatto così, mi rendo oggettivo nelle mie cose. Quindi, certamente Sebastiano che ha dei punti oscuri, certamente. Se mi chiedete però se lui, secondo me, ha fatto qualcosa a Liliane, io vi rispondo che proprio fattualmente, cioè nei fatti, non solo non ha fatto, ma non ho potuto fare nulla. Ma non perché sia una persona buona, un santo, semplicemente perché non l'ha fatto, perché non aveva nemmeno interesse a farlo. Quindi, ho avuto modo di spiegarle cento volte. La posizione oggi di Sebastiano è una posizione sui generis. Da un lato, da un lato, egli accusa Serpini di essere un mitomane e all'inizio, come vi ho fatto ascoltare sul canale, diceva, chissà quale era la natura di quei loro contatti, chissà cosa facevano negli ultimi mesi. Poi, per una sorta di convenienza, ha avvirato, ha un po' modificato la sua posizione, dicendo che sì, diciamo, la storia forse era così nella sua testa, però poi, in ultimo, la moglie ha detto no, l'ha rifiutato. Ecco, quindi ha avvirato adesso su questo aspetto qua. In questo caso, però, legittimando una posizione che porta, dritto, dritto dove? Alla scriviazione per un suicidio, perché si configurerebbe, in questo modo, l'imbuto emotivo. Siamo capiti, quindi, qual è questo cambiamento di Sebastiano che a me non è piaciuto affatto. Quindi è una posizione che, a mio avviso, rappresenta un po', diciamocela tutto, una parola forte, una vigliaccata nei confronti proprio della memoria, della memoria di Liliana, perché io penso che lui sappia perfettamente, perfettamente che non c'è mai, mai, mai stata nessuna storia d'amore con lo Serpino. E nello stesso tempo, visto però che vivevano insieme, non è credibile che non sapesse o non sospettasse fortemente che lei fosse impegnata in altri tipi di interessi, non so quale, altri tipi di interessi che l'accomunavano, diciamo, con lo Serpino. Non certamente l'amore, no, quello no. E allora, fatti due conti, Sebastiano dice, dice, fra se sì, a me non conviene indirizzare i sospetti, le cose, le indagini, diciamo, su altre piste, perché se si avvia una piste di tipo, diciamo, latamente economica, chiamiamola così, non si sa dove tutti questi accertamenti possono andare a parare, dove possono arrivare. Ricordiamoci, ricordiamoci, amici e amiche mie, che quel 2020-2021 eravamo in pieno periodo Covid, quel Covid che aveva reso quasi tutti proprio in crisi economica e magari in giro c'erano personaggi poco raccomandabili che potevano approfittare di certe situazioni. Allora, perché a Sebastiano conviene ripiegare sull'amore, diciamo, ma non corrisposto? Ecco, perché lui fa questa scelta di ripiegare sull'amore, ma non corrisposto? Perché? Perché il discorso dei soldi, cash liquidi, che piovevano, lo turba, lo turba, non lo preoccupa, ma, diciamo così, perché la sua casa, da sempre, ma specie anche durante il periodo Covid, quando vi doveva essere una penuria, quando anche durante il periodo Covid nemmeno affilava più i coltelli, e la casa sua però era diventata una sorta di orto dei miracoli, sapete, Pinocchio, no? Una sorta di orto dei miracoli, dove, 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 i soldi piovevano dappertutto. Nonostante le notevole uscite delle spese quotidiane della vita normale, nonostante gli aiuti, i familiari, i viaggi, e tutto il resto, però i soldi non erano mai, mai, mai mancati, ma il cash era sempre in abbondanza. E poi, quella liquidità 20 mila, 10 mila, 15 mila, di cui si parla, a destra e a manca. Metti la mano qui, apri l'armario, metti la mano dai vestiti. Poi, un'altra cosa incredibile, vedete, l'oggettività dei ragionamenti, io questi vi potrei far capire, l'oggettività, questa sconosciuta. Una cosa incredibile, legata a questo, a questi cash, diciamo, che io ho trovato, è che, è sempre incredibile, quanto raccontato, che la Resinovic gli, dicessi a Sebastiano, che se ti dovessero, se ti dovessero servire dei soldi, apri qua, prendi là, metti la mano là, e, e prendi. Ora, per carità, ognuno nella sua casa fa quello che vuole, ma, possibile mai, che, per una donna che esce, e sta via, 4, 5, 6 ore da casa, ore, lasci queste, queste ultime volontà, come quando, uno passa per una vacanza di 15 giorni, dice, beh, sto fuori, 15 giorni, se ti servono dei soldi, stanno qua, stanno là. Non è che uno lo dice quando esce la mattina perché torna al pomeriggio. Quindi, Sebastiano, nella sua vita, anche, eh, ha avuto modo di, di commerciare, di fare tante cose, con, con l'aiuto del, del vicino, confine, diciamo, però, non ci sono mai state, bisogna anche dire, per onestà, mai stati problemi, mai riferito problemi, di, di nulla, comunque, nella, nella sua vita. ha sempre comprato, venduto, comprato a poco, venduto a tanto, mettiamolo così, ha sempre parlato di casino, di frequentazione di casino, da una vita, però, però, a suo dire, a suo dire, casino, sì, ma, senza casino, nel senso che, era solo perché, vi erano annesse le saune, poco credibile anche questo, però, detto ciò, non si è mai saputo, in questo, equilibrio di coppia, pure, che ci fossero mai stati, dei problemi. i problemi, guarda caso, vengono, con, la frequentazione di sterpin, ma, secondo me, non dal punto di vista, amorevole, amore, è una parola, sconosciuta. E, quindi, credo proprio che, se passiamo, non avrebbe, mai, e poi mai, avuto, nessun motivo, nessuno, per fare qualcosa di male, a Liliana, e, nemmeno, lo avrebbe potuto fare, fattualmente, ecco, mai, perché tutto è stato verificato, e quindi, fattualmente, non c'entra, il mio modo di vedere. Allora, ogni personaggio, ha, in questa storia, delle cose dette, tacciute, mistificate, delle bugie, sicuramente, dette, magari per ragioni, di opportunità, per cui, se qualcuno, diciamo, poi dice, ah, abbiamo visto che, eh, lui, dalla sua mimica facciale, emerge che, dice bugie, Sebastiano, è come scoprire l'acqua calda, hai voglia, ma non una sola, tantissime, piuttosto, ecco, da queste analisi, delle mimiche facciali, eccetera, sarebbe significativo, se, le dicesse solo lui, e gli altri, non le dicessero, invece, credo che, lo stesso risultato, magari, magari, ha molto amplificato, emergerebbe, anche, anche, se, se, si analizzasse, il contesto, di tutti gli altri personaggi, qua, la verità, credo che sia, una illustre, sconosciuta, in questa storia, detto ciò, quindi, per farvi capire, come non c'è mai, nessuna difesa, di Sebastiano, mai, come non c'è, una, nessuna condanna esplicita, di Serpina, Serpina, è, è solo, la consapevolezza, da parte mia, che ha messo in piedi, una storia, che non esiste, per nascondere, diciamo, un altro tipo di contenuto, questa è una mia idea, la considerazione, da cui parte, è la seguente, io dico, perché, un anziano signore, vecchio amico, di gioventù, sente la necessità, di inventarsi, una storia d'amore, all'inizio, molto ideale, molto, soltanto, fantasticata, perché, dice, no, io ho avuto operazioni, di prostrate, quindi è soltanto, una cosa così, e poi, man mano, con una fantasia, sempre più, diciamo, pruriginosa, si inventano, baci, carezzi, tromassaggi, e tante altre cose, e poi, ancora, pian piano, altri elementi, accondimento, tipo, il garage, la cantinola, la soffitta, come, luoghi, improbabili, d'amore, e poi, ancora, attribuire, alla povera, Resinovic, la volontà, la gioia, il gaudio, di voler andare a vivere da lui, perché inventarsi tutto questo, ovviamente, è qualcosa di pacificamente, assolutamente, non vero, fantasticato, perché, mai nessuno, lo aveva saputo, lo aveva visto, senza testimoni, senza foto, senza video, senza nulla, è impossibile, da poter credere, allora, per quale motivo, ecco, bisogna essere oggettivi, per quale motivo, il signor Serpino, vecchia gloria, della ultramaratona, sente la necessità, di inventarsi, queste situazioni, appuntate, appuntate, ecco, questa è la vera domanda, per quale necessità, sente, il bisogno, di inventarsi, queste cose, appuntate, perché, perché, se al suo dire, era, un amore, diciamo, 42 anni, prima, eccetera, allora, voglio dire, da questi 42 anni, di segreti, chiamiamolo così, perché dopo 42 ore, lo doveva sapere, tutta Italia, guardate, il personaggio, è dotato di, intelligenza, sopra la media, perché, lo dice lui stesso, no, di essere dotato, di questa, grande intelligenza, per cui, la spiegazione, di tale, invenzione, di questa, storia, d'amore, che non è d'amore, è una sola, riferita, d'altronde, anche da lui stesso, cioè, l'ha detto lui stesso, dice, io sono andato, lì in polizia, perché mi sarebbero, poi, venuti a cercare, mi sarebbero venuti, a prendere, e perché, perché gli inquirenti, stesso, secondo la sua stessa missione, sarebbero, andate a prenderlo, perché, 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 perché una donna, sparisce, e, la prima cosa, che si fa, si va in questura, a dire, attenzione, 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 vi dico subito, 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 vi dico, prima che vedete niente, che, lei era la mia amante, nessuno lo sa, nessuno lo sa, lo dico io, non ho prove, non ho foto, non ho nulla, ma mi dovete credere sulla parola, perché, vedete, io, corso subito da voi a dirvelo, mi dovete credere sulla parola, ma, perché in questura, perché in questura, si vedono piombare, questo signore Serpin, che dice questo, perché, 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 che bisogna c'era, che bisogna c'era, di dirlo e subito, di dirlo e subito, se, erano veri questi fatti personali, perché dirlo subito, e senza prove, perché, perché la donna scomparsa, poi trovata morta, aveva, appunto, a lui, fatto le ultime telefonate, a lui quella mattina, a lui quella telefonata, del giorno prima, di 16 minuti, mai fatti in vita sua, sicuramente una telefonata drammatica, a lui aveva telefonata, centinaia e centinaia di volte, negli ultimi, due anni diciamo, tutte telefonate brevissime, alcune di pochi secondi, e bisognava dirlo, perché altrimenti, che tipo di giustificazione, avrebbe poi, potuto dare, dopo, e quindi, telefonate brevissime, certamente non compatibili, non tipiche almeno, almeno non tipiche, di, argomento, amore, in tutti i casi, si dice, voi, non pensate, a niente, io, metto le mani avanti, altrimenti, voi inquirenti, chissà che cosa, potete pensare, di queste telefonate, di che cosa parlavamo, di qualcosa di segreto, d'amore, quindi, e parte tutto da qui, da questa sparizione, e da questa andata di Serpina, in quest'ora parte da qui, il grosso inganno, a mio modo di vedere, il grosso inganno, perché non corrisponde, a una verità, almeno minimamente dimostrata, proprio un minimo, nulla, che, in altre circostanze, ecco, se non vi fosse stato di mezzo, una persona morta, in altre circostanze, questa cosa, avrebbe trovato, diciamo, il sorriso, quasi di compassione, di dire, poi qui, questo che si inventa così, a dire una cosa così inventata, senza importanza, invece Serpina, ha, tra virgolette, la fortuna, che, le sue fantasie, sono state accolte, dalla famiglia, Resinovich, dal fratello, dagli altri, e anche dagli amici, che non hanno pensato, che, parlavano, d'altro, di altre cose, altri interessi, no, no, hanno accettato così, perché, lo hanno accettato così, pur non conoscendolo, fra le altre cose, non conoscendolo, perché si dice, beh, io lo credo, perché, è un amico di vecchia, no, non conoscendolo, assolutamente, ma, erano dichiarazioni, che, per fortuna, diciamo, dell'Osterfin, mettevano sotto cattiva luce, diciamo, quello che era un po' il nemico, ma, il nemico di sempre, oppure l'antipatico di sempre, il Sebastiano, che, poteva quindi essere, in quel momento, il geloso della situazione, che, in questo caso, si potevano togliere di torno, per caso, che, emerge invece, il quadro di, una coppia, in cui la gelosia non c'era, una coppia libera, che amava, fare nuove esperienze, in tante gite, in gite fuori confine, che mai, che mai, vi era potuto essere, un, una conseguenza, un, un riferire, eh, episodio di gelosia, vista la natura, di questo rapporto, così, così libero, ecco, da qui nasce tutto, e da qui, e da qui, insomma, nascono le, contrapposizioni, nascono, mh, il voler, dare significato, a stupidate, qualunque, eh, ha detto questo, ha fatto quello, ha guardato, ha dato una scandescenza, non è stato, nel, nell'officina, no, il consumo elettrico, non è compatibile, no, ha preso la GoPro, l'ha modificata, l'ha fatto il giorno dopo, per il giorno prima, cose, ovviamente, senza, alcun tipo di riscontro, come, è stato pacificamente dimostrato, insomma, più di tanto, non si può dire, quindi, diciamo, la pista economica, o legata, ad altri fattori, o a altri personaggi, invece, non viene mai, mai preso, altre ipotesi, mai prese in considerazione, perché, perché questo, perché si rimane ancorati, all'idea, diciamo, inventata, l'idea quasi pacchiana, di una Liliana, che chissà, per quali motivi, è senza avere, fatto confidenza a nessuno, voleva trasferirsi a casa Serpin, che spesso ha anche indicato l'idea, di una donna, una donna casalinga, diciamo, quindi, che doveva stare, a fare, diciamo, i suoi compiti di casa, sarebbe stata, una sorta, per Liliana, di metamorfosi, diciamo, esistenziale, una metamorfosi all'incontrato, in cui, non è che un bruco, diventa farfalla, ma, di una farfalla, che in questo caso, diventerebbe bruco, una metamorfosi, all'incontrato, è quasi inconcepibile, indefinibile, inimmaginabile, da parte, della, della Resinovic, quindi, si blocca tutto, perché, questa radicalizzazione, blocca tutto, qualsiasi inghiesa, si impantana, in questo pantano, dove si sviluppano, soltanto queste, contrapposizioni, quindi, quindi, è tutto ciò, che dice Serpin, quindi, anche lui, dice cose, contraddittorie, imbarazzanti, per cui, diciamo, concludendo, questo tipo, di ragionamento, di stamattina, io, divendico, quindi, questo duolo, di oggettività, perché, ogni personaggio, sa le sue caratteristiche, ha le sue difese, ha le sue bugie, ha le sue contraddizioni, allora, da una parte, abbiamo, questo marito, Sebastiano, avvolto, nel suo mondo, di abitudini, eh, questo suo modo, di arrangiarsi, diciamo, nella vita, eh, nel suo mondo, fatto di, di foto, di bici, di moto, di macchine, in cui aveva, per tanti anni, coinvolto, Liliana, che, che vedeva, magari, in lui, questa libertà, queste novità, la possibilità, di girare il mondo, che a lei, era sempre piaciuto, da, da ragazza, e quindi, condividevano, condividevano, evidentemente, dei segreti, eh, anche, anche, dei segreti, senza altro, e dopo i primi anni, di matrimonio, in cui si parlava, di qualche difficoltà economica, per cui si era anche, fatto fare un prestito, ma poi, ma poi, evidentemente, avevano trovato il modo, di vivere, in un benessere, sostanzialmente, quindi, un marito, questo Sebastiano, che con 100 difetti, ma veramente, forse 101, non può, però, fattualmente, per le verifiche effettuate, fattualmente, non può, essere, non può aver fatto, fattualmente, nulla, ma, non fosse altro, che, per la sua costante, un po', diciamo, confusione, confusione mentale, chiamiamola così. D'altra parte, dall'altra parte, invece, ci sono diversi amici, che, prima erano amici, di pranzi, di cena, che, man mano, di cui, man mano, si sono un po', perse le tracce, per esempio, andiamoci chiaro. Poi, c'è, diciamo, lo Serpina, diciamo, quasi omnipresente, un personaggio che, diciamo, non avrebbe, dovuto contare nulla in questa storia, perché non aveva alcun tipo di degame, sostanzialmente, con la Resinovic, se non fosse stato costretto, ma proprio costretto, proprio, ad inventarsi questa storia, perché, evidentemente, non poteva giustificare in altro modo, e poi, condirla, condirla nel corso dei mesi, degli anni, facendola diventare una storia, quasi da decamerone, come dice lui, una storia che nasce dalla fantasia, non dimostrata da niente, da nessuno, da nulla, ma, vi ripeto, doveva giustificare queste telefonate brevi, ma poi, magari, questi altri interessi, di una storia, fatta di interessi, non dico fossero illeciti, per carità, non dico, ma era altro, è proprio, fattualmente, questa cosa, che, era di altro tipo di interessi, la storia, non aveva, e l'amore non c'è, non si evince da nulla, non c'era, non c'era alcuna parola di amore, nemmeno una, che sia una, quindi, su ciò bisognerebbe indagare, come pure indagare, su quei codici segreti, di cui, riferiva il fratello Sergio, se mi dovesse succedere qualcosa, i codici segreti, non dire niente a Sebastiano, che lui, di queste cose, non deve sapere, ecco, si deve indagare, perché, perché, questa, diciamo, questo incontro, che è protromico, alla frequentazione con Serpine, prima viene riferito, partire dall'agosto 2021, con il famoso incontro al cimitero, e poi, si scopre, no, e vabbè, ci vedevamo pure prima, nella cantina, e no, e poi ci vedevamo nella soffitta, e poi ci vedevamo nel garage, e no, ancora prima fuori al cimitero, dove siamo stati multati, perché era il nostro centro di smistamento, quindi, questa cosa, che non ha nulla a vedere con l'amore, ma, evidentemente, con un altro tipo di, di interesse, ma sarà stato pure, magari, che non lo so, per, per qualsiasi altra cosa, non voglio dire, ma, l'unica certezza, che non c'era la storia d'amore, a mio modo di vedere, quindi, questa è la mia verità, questa è la mia oggettività, per cui, queste radicalizzazioni, sono inconcepibili, si sarebbe dato una mano alla procura, aprendo, diciamo, lo sguardo, allontanandosi, cercando di, di indagare a 360 gradi, così non è stata, allora questa, questa donna, voluta bene, stimata da tutti, che, aveva fatto, della, della diservatezza, la sua ragione di vita, è stata messa, in piazza, poi, con, la più vergognosa, delle, delle calunnie, è stato fatto di tutto, con questa donna, le è stata attribuita, ad esempio, una storia d'amore, extra con uguale, con Serpina, non c'è, sono stati, resi noti, e, 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 due, due fatti dolorosi, della sua vita privata, intima, come i due aborti, dell'85 e del 93, e sono stati attribuiti, compostamente, da mantide di Trieste, si vedevano nascosti, chissà cosa facevano qua, cosa facevano là, e forse ci sta, ancora un terzo uomo, è stata attribuita la, eh, frequentazione assurda, di garage, cantinone, soffitte, senza acqua, né luce, dove, chissà cosa fare, no, non va bene così, e, dal mio punto di vista, una forma di vergogna, che, perché lei, questa donna, da tutte queste cose qui, non si è potuta, difendere, non ha potuto difendere, la sua dignità, il suo orgoglio, il suo essere donna, il suo essere, stata donna in carriera, il suo, non essere mai, stata criticata, da nessuno, non ha potuto dire, io non c'ero, non l'ha potuto dire, ed è per questo, che io, pur pensando, che lei, possa essere finita, in una situazione, ingannevole, di qualche tipo, ritengo, migliore, e auspicabile, la giusura, al più presto, per suicidio, non fa niente, basta che, scenda il silenzio, su questa donna, per fare in modo, che, i tanti, odiatori, possono, scegliersi, un altro caso, di cronaca, su quale, riversare, evidentemente, le loro problematiche, questo è tutto, questa è la mia, riflessione di stamattina, quindi, cerchiamo di condividere, queste idee, qua non si parla di novità, si parla di, pensiero, di opinione, e credo che, sia importante, tutto ciò, condividiamo il video, diffondiamo, questi pensieri, grazie amiche mie, un abbraccio, a tutti quanti voi, vediamo, a tutti, grazie, Grazie.